la tucittina e seno attraverso nt a cura dvb antonello la tucittina debora l'ho rimbambita e poi vi sono piaciuti tutti i fenomeni che abbiamo fatto domanda ma adesso li continuate a fare anzonello il tuo compagno mi ricordo la sua faccia quando ha visto quella porta corazzata pesante che si è aperta è rimasto a bocca aperta domanda mi è capitato anche altre volte che la porta si apriva anzonello certo quando possiamo e ci sono le energie lo facciamo domanda adesso continuate a farli li o no antonello o che ti credi che sia facile fare i fenomeni nella vostra dimensione dobbiamo agire sulla materia e poi se non c'è un energia sufficiente che facciamo